Voglio ringraziare molto ai lettori della famiglia cristiana per il vostro sostegno, per la vostra preghiera, ma soprattutto anche per questi libretti che avete fatto in lingua ucraina per tutto il nostro popolo che può pregare e rivolgere le preghiere alla Madonna di Fatima. Stiamo in un periodo molto difficile e questa solidarietà è molto necessaria ai nostri cuori. Per questo vi ringraziamo e vi preghiamo di continuare a pregare per noi, di stare vicino e noi anche pregheremo per voi.